ciao a tutti ragazzi bentornati su starlight books questo è credo sono quasi sicura meno che non capita qualche imprevisto è l'ultimo video della stagione dopodiché mi prenderò penso una pausa di un paio di settimane per diciamo leggere le letture magari ecco come se mi seguite su instagram il mio progetto diciamo è di leggere alcune autrici del reere che ancora non sono riuscita a leggere e recuperare anche qualche lettura che ho dovuto lasciare indietro per motivi diciamo prioritari quindi diciamo mi prenderò penso che tornerò dopo ferragosto penso che tornerò più o meno la settimana dopo ferragosto quindi bando alle ciance il libro di cui mi accingo parlarvi oggi è una commedia romance molto carina molto divertente leggera ma con dei messaggi di fondo e degli argomenti dedicati trattati veramente benissimo che lo hanno reso veramente indimenticabile il libro in questione è questo un letto per due di bet oliri questo è un auto conclusivo edito da mondadori e mi convissi a prenderlo in cartaceo grazie diciamo alla l'opinione che la mia adorata jenny anastan mise su facebook dopo averlo letto sentendola decantarlo in questo modo e fidandomi insomma del del giudizio della zia jenny mi sono fidata proprio sulla fiducia e l'ho comprato e devo ammettere che le mie aspettative sono state pienamente soddisfatte perché questo libro io prima di questo avevo letto quel torci budella di noi due per sempre questo mi ha aiutato sia a staccare sia però anche a riflettere ad emozionarmi tanto mi accingo a leggervi la trama dopo il naufragio della sua storia d'amore tiffy moore ha assolutamente bisogno di trovare una nuova sistemazione e alla svelta peccato che il suo stipendo da junior editor sia poco compatibile con gli affetti stellari di londra ma tiffy non si dà per vinta e spucciando le inserzioni decide di rispondere a un annuncio singolare dividere appartamento camera e soprattutto l'unico letto della casa con l'ion un infermiere che fa i turni di notte una convivenza ideale l'ion occupa la casa di giorno mentre tiffy rientra la sera ed esce prima che lui torni unico scambio un via vai di messaggi sul frigo all'inizio formali poi ironici infine affettuosi due perfetti sconosciuti e un'amicizia affidata a bigliettini di carta ma quanto passerà prima che a tiffy e lion non venga la curiosità di vedersi ecco come avete potuto vincere dalla trama questi due protagonisti arrivano a incontrarsi dopo una buona parte del libro per tutto il resto del tempo comunicano tramite questi bigliettini e tramite anche il cibo perché si lasciano sempre qualcosa da mangiare l'uno per l'altro e questa è una cosa molto carina tiffy è un personaggio che davvero mi ha colpito al cuore perché è una ragazza che senza volerlo ha subito la violenza peggiore che si possa mai subire c'è anche il termine e questo me l'ero segnato mi l'ero segnato al capitolo in cui in cui c'è un attimino no non era questo avrei dovuto metterci segnalibro e ma è sparito c'ho messo il segnetto eccolo quasi no credo è vero eccolo qua è gas ligni se si pronuncia così gas ligni che è una forma proprio di violenza io mi sono documentata su su internet ed è proprio questi uomini questi pezzi di merda che si approfittano magari della fragilità della propria donna per manipolarla faccio un esempio stupido per esempio justin aveva fatto credere a tiffy di aver buttato via dei vestiti quando invece era lui che li nascondeva perché non gli piaceva quando lei se li metteva cioè penso che sia una delle forme di violenza più stronze più da pezzi di merda e questa è una cosa seria cioè in una commedia romance mettere una cosa così seria e trattarla veramente con la massima delicatezza che proprio non ti opprima ti fa riflettere ti fa dire ma porca eva sto stronzo ma te lo fa dire non attorcigliandoti le budelle in modo esagerato come succede molto spesso nei libri che trattano comunque bene questo genere di cose quindi un personaggio che ti ispira anche tenerezza perché appunto lei si ritrova all'inizio che tanto le ha messo le corna e quindi lei è rimasta anche ad abitare nell'appartamento di lui con la nuova ragazza poi quando lei ha trovato appartamento trovato un appartamento con leon ha cominciato insomma un nuovo inizio lui ha ricominciato diciamo a perseguitarla con l'aiuto anche un aiuto anche esterno che non vi rivelo chi è perché sarebbe uno spoiler ecco parlando del personaggio di justin che è appunto l'ex in questione di tiffi io l'avevi appreso per riflatto si merita soltanto questo perché questi sono solo dei padri padroni di merda che meritano di essere castrati sia chimicamente che con le forbici quelle da giardiniere e io ne ho tre o quattro portatemelo qui che ci penso io no veramente questo genere di personaggi maschili veramente ti fanno salire il crimine ti fanno veramente pensare che l'uomo quando vuole ma anche le donne cioè l'essere umano in generale sa essere il più grande pezzo di merda della storia parlando poi del personaggio di lion anche lui ha una relazione lui fa l'infermiere nel riparto di aspetta ce l'ho è dove ci sono i tumori dove ci sono i malati di tumori insomma ce l'ho sulla punta della lingua e ci sono state anche parecchie volte in quel reparto ma adesso non mi viene in mente c'è anche scritto comunque lui si occupa soprattutto del reparto dove ci sono i malati di tumore non necessariamente terminale ma comunque i malati che stanno facendo la chemia tutte quelle 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 cure purtroppo necessarie per sopravvivere o perlomeno per diminuire il dolore è una persona che anche lui ha il suo bel bagaglio di problemi ha un fratello che purtroppo è in carcere per un crimine che non ha commesso ecco qui c'è anche una denuncia diciamo al sistema giudiziario e gli avvocati che dovrebbero anche imparare prima a fare il mestiere e poi dopo a prendere delle cause che si fanno anche pagare pezzi di merda e ha una relazione appunto con questa ragazza che io sinceramente lion appena ho letto le prime righe in cui parli con lei che l'ho capito subito che ci aveva scritto stronza carattere cubitali sulla fronte perché purtroppo non ha un bel comportamento cioè se tu sei la hai un compagno che ha un fratello in questa situazione lo devi appoggiare non devi sentirti geloso del fatto che lui sta dedicando più tempo al fratello fratello sangue del suo sangue a te che sei la sua svimpera alla fine della fiera tu sei un'estranea quello è il fratello lui sta cercando di tirare fuori il fratello di galera e tu ti lamenti perché ti porta via tempo alla vostra relazione ma se veramente lo amavi lo appoggiavi gli stavi vicino non gli rompi i coglioni punto chiudo qui la parentesi cai lion appunto è un personaggio anche romantico lui fa fatica diciamo a lasciarsi andare ma comunque è un personaggio che si vede che crede nell'amore lo cerca anche se tenta sempre comunque di proteggersi cerca sempre comunque di non mostrare troppo di sé quando incontra tiffi e comincia questa diciamo comunicazione non verbale ma tramite questi bigliettini lui trova anche diciamo serenità in questa cosa di conversare con questa ragazza che gli sembra veramente straordinaria però senza mai vedersi finché poi alla fine arriva appunto il momento di incontrarsi ed è uno degli incontri più belli della storia degli ultimi tempi non ve lo dico ma vi dico solo che vi spiscerete addosso da le visate la penso che la bettolire non avrebbe potuto creare uno scenario più bello per il loro incontro è fantastico bettolire appunto questo è il primo libro che leggo suo credo anche che sia il primo libro che pubblica in l'italia ma non vorrei dire strombolate andate a controllare poi lo farò anch'io dovrei farlo prima dici dovresti farlo prima se ne ha blog dovresti farlo no io sono figa comunque è il primo libro che leggo suo devo dire che il suo stile mi è molto piaciuto perché non solo ha saputo trattare degli argomenti come il carcere da innocente il gaslight gaslitio come si chiama la violenza insomma psicologica perpetrata ai danni di tiffi poi ci sono anche due personaggi fantastici ci sono gerti e mo che sono diciamo i migliori amici di di tiffi se gerti è più impulsiva è proprio un maschiaccio proprio incazzosa muo invece quello più riflessivo anche perché fa lo psicologo di vestire quindi deve essere diciamo che la tranquillità è proprio il suo mestiere proprio amore c'è l'amica quella un po pazzerella quella che trascina tiffi un po cercare di rimettersi in gioco e anche a un certo punto di rimettersi con giusti senza però sapere ciò che questo strozzo ha fatto all'amica quando poi se ne rende conto gli tira anche un bel ceffone e lì si è meritata un applauso abbiamo anche il personaggio di katrin che è una scrittrice che scrive libri su come farsi gli abiti all'uncinetto e per cui tiffi sta curando il libro che secondo me è un capolavoro abbiamo martine su di lui stendo un velo pietoso e poi abbiamo appunto tre personaggi nella vita di lion in questo caso che mi sono veramente piaciuti c'è holly che è una bambina di otto anni che ha la leucemia ma a un certo punto diciamo che la cosa si diciamo si sistema più o meno ed ha un legame veramente fortissimo con lion veramente lui poi ha un legame che si sente veramente anche se è accennato poco ma si percepisce tantissimo il legame che ha il lion con questa bambina di otto anni abbiamo il signor prior che è un capolavoro è un capolavoro anche lui che diciamo ha avuto una storia con un uomo ai tempi della seconda guerra mondiale e lion si perde talmente a cuore questo anziano da cercare tutti possibili johnny white che è l'uomo con cui questo signore ha avuto una storia ed è fantastico questo ti fa capire il tipo di persona che è lion c'è un infermiere che si perde talmente a cuore un paziente da cercare perfetti sconosciuti per trovare l'amore della vita di questo signore prima che muoia perché comunque un malato terminale cioè è da chapeau chapeau per lion e poi abbiamo ricci ricci io non so se la betto lì può capire l'italiano io voglio un libro sul ricci i wanted a book of richie please please il mio inglese non è perfetto ma please lo voglio perché veramente è un personaggio che mi è entrato veramente nel cuore è un personaggio che si vede che sta soffrendo per la situazione che trova il lion appunto nel fratello l'unico appiglio al non crollare definitivamente ed è bello poi il legame che si stava con tiffi perché già tiffi lì dimostra di essere veramente una persona straordinaria nel momento in cui lion le spiega la situazione chiede di scrivere al fratello il fratello le scrive una lunghissima e bellissima lettera in cui le spiega che cosa è successo e lei comprende e soprattutto cerca di aiutarli nonostante non abbia mai visto lion e ricci in vita sua cerca di fare qualcosa perché gert è un avvocato e questo è straordinario ti fa capire veramente il cuore che ha questa ragazza lion e tiffi veramente sono una una metà dell'altra cioè si vede la loro storia è veramente bella anche se comunque si sviluppa non proprio subito però è bello è stato bello vedere lo sviluppo il percorso sapete che io adoro il percorso di conoscimento di innamoramento è bello come è nato perché tutto è nato da questi bigliettini per poi questo incontro tragicomico per poi passare appunto a questa amicizia bella sviluppata e tutto per poi passare a questo a questo sentimento veramente forte veramente bello che però è minato appunto anche da quello psicopatico dell'ex quindi io gli do un 5 stelle pieno meritatissimo perché poi il finale secondo me è perfetto è bellissimo ho goduto come un riccio in una certa scena veramente è bellissimo è un libro veramente stupendo se cercate un libro sì per staccare per divertirvi per rilassarvi per sognare per emozionarvi e anche per riflettere un libro che comunque sembra semplice e leggero ma che in realtà nasconde degli argomenti dei messaggi di fondo veramente veramente profondi un letto per due ragazze fa assolutamente per voi bene questo video si conclude qui io spero che vi sia piaciuto colgo l'occasione per augurarvi buona estate e buone vacanze se siete invece già dati vacanze state per tornare al lavoro mi spiace beati voi che avete il lavoro quindi tenetevelo stretto vi auguro un buon rientro nel caso state rientrando come vi ho detto riprenderò penso la settimana dopo ferragosto anche perché comunque continuerò a leggere continuerò comunque a girare i video non magari ai ritmi di adesso ma comunque continuerò a fare diciamo la mia passione continuerò a perpetrarla però diciamo che mi prenderò un ritmo un po meno serrato e soprattutto mi dedicherò alle letture quelle che ho lasciato indietro durante il corso di questa prima metà di anno voglio come vi ho detto leggere più utrici del rare possibile perché il 26 il 28 anzi ci sarà il rare di a roma io ho letto veramente pochissimi pochissimi libri delle autrici pochissime autrici ho letto veramente pochissime autrici quindi voglio recuperare quello che posso approfitterò infatti oppure ne ho già approfittato adesso non so questo video quando andrà online della maratona dell'8 agosto vi lascio il link del profilo che le organizza instagram andateci a dare un'occhiata se questo video è andato online dopo la maratona la facciamo la si fa ogni anno quindi avrete tempo anche l'anno prossimo di poter partecipare che cos'è questa maratona una maratona si chiama non mi ricordo adesso il nome esatto però è una maratona di 24 ore in cui si vede quanti libri si riescono a leggere non è una gara tra di noi è più una gara con noi stessi per diciamo non solo elogiare il nostro amore per la lettura e quanto ci piace farlo ma anche vedere quanto veramente un libro riesce a prenderci e quanto riusciamo a non staccarci ecco io l'anno scorso lessi quattro libri mi pare e mi ritengo molto soddisfatta dal mio traguardo e vediamo quest'anno anche quest'anno quattro libri più o meno ho scelto più o meno sempre sono rimasta sempre su standard di quattro libri non so se riuscirò a mantenerlo comunque bando alle ciasce concludo questa recensione augurandovi comunque buone vacanze buon rientro che che sia vi ricordo come sempre che nel link del blog dell'infobox trovate tutte le info riguardanti il libro prezzo trama numero di pagine case di trici tutto quello che può servirvi per farvi un'idea troverete anche i miei social quindi iscrivetevi a facebook twitter instagram venite a trovarmi seguitemi mettetemi like che mi fate tanto tanto contenta iscrivetevi al canale blog se l'avete ancora fatto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e se questo video vi è piaciuto mettetemi un bel like e condividetelo vi mando un bacione enorme vi auguro ancora buone vacanze e ci vediamo dopo ferragosto con le nuove recensioni e i nuovi video ciao a tutti